Terza batteria al Palio di Asti 2016. Al Canapu ci sono schierati i cavalli di San Silvestro, San Rocco, San Paolo, Tanaro, San Lazzaro, Santa Maria Nuova e Canelli. Dopo una falsa partenza, la corsa è partita senza intoppi. Subito hanno dominato i tre favoriti, i cavalli di Tanaro, San Lazzaro e Santa Maria Nuova, che fino all'ultimo hanno difeso la propria posizione. Canelli poteva fare di più, ma alla fine non ha usato. Ordine di arrivo, Tanaro, San Lazzaro e Santa Maria Nuova, che accedono così alla finale, seguiti da Canelli, San Paolo, San Rocco e San Silvestro. Sindaco Brignolo, dunque un commento per questo Palio, cosa ne pensa? Stiamo andando benissimo, c'è tantissima gente, abbiamo venduto anche se i biglietti delle tribune, infatti è stradieno, la giornata ci ha assistito dal punto di vista del clima, è quindi una festa bellissima. Degli accenti che provengono poi dalle tribune, sembra che è un Palio che piace sempre di più anche agli stranieri. Sicuramente, sta arrivando sempre più gente anche dall'estero, una leva importantissima per la nostra città, per la nostra economia, ma deve essere ovviamente una forza entusiasmante. No, 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 non va bene, ci lascia.